Secondo step! Secondo step! Prima abbiamo visto solo qualche accessorio, ecco allora Allora ragazzi vi presento il miglior Batman di sempre. Eh ma c'è la luce c'è la luce dietro e non mi vieni bruciata mi viene. Ma a me io tanto non so. Aspetta che mi metto di qua io mi metto di qua io Ecco qua. Allora dai. Come vi dicevo la trilogia di Nolan è assolutamente la mia preferita quindi per me lui è il miglior Batman di sempre. Lui chi? Christian Bale. E lui è Alfred. Cioè quando tu pensi a Alfred. Adesso io dovrei toccare. No è Alfred Eccolo. Cioè capisci? Wow. Ma di cosa stiamo parlando? E lui. Ragazzi. Ciao. E lui. Ciao Alfred. Amore. Ciao a Dio. Ciao a Dio Alfred. Cioè guardate le mani di ricambio. No sì Alfred. Guanti ma poi i vestiti cioè. Scusa. Questo è molto bello. No scusa. Beh. Cosa dici? Riuscitissimo. È più bello io eh. Sì sì. Cioè tu sei bello. Un po' stronzino però sì. L'outfit. Non m'ha voluto vendere una cosa vabbè. Ci sono rimasto un po' male eh. Non me la faccio andare giù tanto facilmente. Ragazzi considerate che Frediano queste cose cioè teoricamente sarebbero usate. Ecco come ve le consegno. Non so cosa dire. Ma infatti all'inizio ho detto chiaramente che è il collezionista. Scusate non so neanche come rimetterle queste cose. Questo qui ti ricordi che ti ho detto è il collare. Sì. No aspetta. Vabbè. C'è l'agitazione. Amore. Questo è il Batman. Questo tra l'altro è la versione cava. Cioè vedi. Cioè perché poi la. Questo è poi quello che tu andrai a mettere. Esatto. Qui sotto. Fategli l'aria. Ciao. Fategli l'aria. Fategli l'aria. Fategli l'aria. Fategli l'aria. Fategli l'aria. Fategli l'aria. Che c'è un pernettino. Gli occhi. C'è una leva. Un attrezzino. Che tu lo inserisci. E poi devi giragli lì. Dopo anche questi si muovono. Ok. Vabbè. Sì vabbè questo è tipico di tutte le autori. Sennò la direzione. Ma scusate. No scusate. No infatti. Cioè ragazzi guardate l'emozione di questa ragazza. Mi sembra. Mi sembrava. Ecco. Mi sembrava anche corretto. Cioè. No. Sono quasi materiali. Se ne salva uno qua in mezzo. Uno eh. Uno. Se ne salva uno. Questo? Solo chi è come noi può capire queste cose. No scusate ragazzi. Cioè voi dovete capire che queste sono cose che desidero da sempre. E ho detto. Non le potrò mai con casa. Vedi. A te ha fatto piangere perché te l'ha venduto. A me mi ha fatto piangere perché non me l'ha venduto. Quindi in ogni caso piangi. Non te lo do e mi diamo il cms. Ma lo so che non me lo dai. Ma io tanto te sfascio coltre anche dopo. Quando l'ha trovato da là. Ti piace? Vai. Eh? Eh? È il tuo momento questo. Anche perché dopo. Se arrivano gli altri. Dopo diventa. Questo è il tuo momento. Esatto. 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 Aspetta. Mi devo soffia il naso ragazzi. Scusate. Lo so che sia in diretta. Dai soffiamoci il naso. Dai. Soffiamoci il naso. Dai. Va bene ragazzi. Stavolta vi saluto davvero. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. 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 Non te lo vendo il cms.